salve a tutti da giusi oggi preparo un gelato al cioccolato bianco e zenzero versione bimbi gli ingredienti che ci occorrono sono 200 grammi di cioccolato bianco a pezzi congelato 200 grammi di latte a cubetti congelato 160 grammi di panna vegetale dolce montata e messa in freezer per due ore mezzo cucchiaino di zenzero in polvere andiamo a preparare nel boccale metto il cioccolato il latte e il mezzo cucchiaino di zenzero in polvere azione il bimbi secondi velocità 9 riunisco sul fondo aggiungo la panna che dopo averla montata la metto in freezer per due ore azione il bimbi 10 secondi velocità 5 ho preso un contenitore il gelato è pronto lo vado a versare nel contenitore ed ecco pronto il mio gelato al cioccolato bianco e zenzero versione bimbi alla prossima ricetta ciao